Torna a vincere il Frosinone di fronte al proprio pubblico, 4-3 contro la Virtus Santella, un risultato che vale doppio, considerate il pareggio del Palermo-Cesena, che in questo momento fa sì che il Frosinone si trovi ad una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Bardi, voto 5, non abbastanza reattivi in occasione della prima rete, in colpeoli in occasione degli altri gol. Brighenti, voto 5, va troppo spesso in sofferenza contro gli avversari, a volte sbagliando anche il posizionamento, meglio in altre gare. Ariaudo, voto 7, puntuale negli interventi nonostante qualche colpo duro subito, benissimo anche in fase di impostazione con la perla del lancio che è propizia il terzo gol della sua squadra. Terranoa, voto 6, attente ed ordinato nella sua zona di competenza che il Frosinone non rischia praticamente nulla. Matteo Ciofani, voto 6,5, instancabile sulla fascia, abbina la consuetà quantità con incursioni offensive puntuali nelle quali tratta il pallone più che discretamente. Gori, voto 7, il solito lavoro preziosissimo in mezzo al campo, fa da scherma la difesa e va a caccia di palloni non disdegnati inserimenti interessanti. Maiello, voto 6, fornisce geometria alla squadra ma non entra mai nel vivo della manovra, meno in luce rispetto alle altre volte. Beghetto, voto 6, grandissima partita sull'out sinistro dal quale mette in mezzo un grande numero di traversioni pericolose e si rende protagonista di giocate interessanti. La manata di Hav che causa il rigore per l'entella macchia però ha la sua prestazione. Citro, voto 7, molto pimpante nel primo tempo quando cerca spesso il guizze e dialoga con i compagni segnando una rete ingiustamente annullata, cala vistosamente nella ripresa. Ciano, voto 8, altra doppietta, tante giocate di qualità e grande partecipazione alla manovra anche partendo più indietro rispetto alle sue abitudini. Daniel Ciofani, voto 7,5, quando c'è un pallone da buttare dentro lui non se lo fa sfuggire, due reti davvero nuove, un centravanti preziosissimo nel supporto alla costruzione delle azioni. Moreno Longo, voto 7, tutta la pressione del match era sulle sue spalle ma lui non si fa intimidire, lancia dal primo minuto Citro che lo ripaga con una bella prestazione. La squadra dimostra di star bene anche dal punto di vista psicologico, reagendo alla grande alla doccia fredda rappresentata dal gol in avvio. Poi domina la partita e avrebbe meritato anche uno scarto più ampio.